In vista dello sprint finale, il coordinamento Perugia Club ha premiato altri due giocatori nell'ambito del trofeo Miglior Grifone-Gioielleria Bartoccini. A ricevere i favori dei tifosi, questa volta, sono stati Pierdesire Zebli nella partita Modena-Perugia 3-0 e Stefano Guberti in Novara-Perugia 2-2. La cerimonia di consegna dei premi di tappa si è svolta nel punto vendita a Bartoccini di Pian di Massiano. Ormai sono diversi anni che siamo vicini al Perugia Calcio con questa manifestazione Miglior Grifone. Abbiamo fatto nel tempo crescere di livello e negli ultimi due anni abbiamo messo in palio questi reologi in collaborazione con la Glicin, che è l'official timekeeper del Perugia Calcio e quindi cercando di alzare un pochettino il monte premi per cercare di stimolare nel nostro piccolo un po' le prestazioni, se può servire dei calciatori del Perugia Calcio. L'iniziativa del centro coordinamento in questa edizione, oltre a mettere in palio un importante e prestigioso premio, presenta anche un'altra novità, la partecipazione diretta dei tifosi alla votazione del Miglior Grifone, possibile nel sito ufficiale della Ciperugia al termine di ogni incontro. Tutti coloro, ricordiamo, che partecipano alla votazione possono concorrere all'estrazione di piccoli gadget che noi realizziamo per il merchandising del Perugia Calcio, quindi un modo per stimolare anche i tifosi a partecipare a questa iniziativa che, ripeto, nel corso degli anni è cresciuta sempre più e sta diventando abbastanza importante. In questo caso, a ricevere i braccialetti bianco-rossi con il simbolo del grifo, sono state Emanuela Bigini e Carla Giannoni del Perugia Club, baciati dal grifo perugina.